Perché la routine aiuta a cambiare vita? Perché per raggiungere un qualsiasi obiettivo in grado di cambiare vita, di migliorarla in un certo aspetto, serve disciplina. Sono Irina e ti do il benvenuto al progetto 80-20 di Spazio Grigio, 80% lettura, 20% opinione, in cui ti leggerò i passaggi preferiti di un buon libro e ti dirò la mia opinione. Libro di oggi, Morning Routine. Come cambiare la propria vita prima di colazione. Questo nuovo 80-20 è sul mio ebook, che non è solo una guida per creare una routine, quindi su determinate attività, è un libro motivazionale che vuole cancellare i limiti autoimposti, i limiti mentali che ci creiamo e ci portiamo dietro per anni e così aiutarci a cambiare vita o a migliorarla. Non si tratta dei soliti cliché, vivi la tua vita, goditi il momento. Secondo me, e quindi secondo questo ebook, alla base, per godersi davvero la vita, c'è l'autodisciplina. Come si ottiene la vita dei propri desideri? Accettando la totale responsabilità di ogni aspetto della propria vita e rifiutandosi di dare la colpa a nessun altro. Il livello di accettazione della tua responsabilità per tutto quello che succede nella tua vita è direttamente proporzionale al potere personale che hai per cambiare o creare qualsiasi cosa. Non sono i tuoi genitori poveri, non è il tuo ragazzo cattivo, non sono i tuoi colleghi antipatici. Tu hai la responsabilità di quello che ti accade. Per tutta la vita diamo la colpa agli altri, alla situazione e pensiamo che gli altri abbiano tutto e noi invece siamo sfortunati. Non ho abbastanza soldi per fare l'università, non so l'inglese per cambiare paese, non sono abbastanza intelligente per quella posizione. Questi sono limiti mentali. Se vuoi che cambi qualcosa, tu devi cambiare, non fermarti a desiderarlo, lo puoi ottenere. Qualcuno nemmeno sogna perché è troppo realista. Qualcuno invece si ferma al sognare. Vedo sui social a volte persone a condividere delle belle immagini e scrivono che sarebbe un sogno. Ma quello che io vedo è fattibile, so che lo si può raggiungere. Basta avere il coraggio di ammettere di volerlo, fare un piano e fare un passo, un passetto anche ogni giorno. Ma prima prendersi la responsabilità dei propri sogni. Io non potrei mai, io non sono capace, ma chi sono io per fare questo? Sono cose che mi dicevo anch'io prima di cominciare una routine mattutina. Ora so che posso raggiungere qualsiasi cosa io decida di voler raggiungere, con la consapevolezza che ci saranno sacrifici da fare. Senza quelli il domani sarà uguale a oggi. Ma perché la routine aiuta a cambiare vita? Perché per raggiungere un qualsiasi obiettivo in grado di cambiare vita o di migliorarla, in un certo aspetto, serve l'autodisciplina. E la routine mattutina aiuta a svilupparla, insegna a svegliarsi presto, a rispettare certi orari, anche quando non si ha voglia, quando normalmente si dormirebbe fino a tardi. Aiuta a prendersi del tempo per se stessi e dei propri pensieri. Aiuta a prendersi cura di se stessi, della salute. In più le attività stesse aiutano a raggiungere quello che si desidera, perché ci si prende del tempo, ci si dedica del tempo a questo scopo, che può essere fare sport per migliorare la salute o yoga o leggere o fare un corso per imparare qualcosa. Poi spiega come fare per alzarsi al mattino, perché al mattino, la mia storia, frasi motivazionali e altro. Le attività che vengono trattate sono, vi leggo un piccolo passaggio di ciascuno. La meditazione. Il primo passo sarà ritrovare il silenzio. Perché? Perché viviamo in un mondo rumoroso. Al lavoro se non sono i colleghi e il telefono. A casa se non è la tv sono i bambini, i genitori, i vicini, i animali. E questi sono i rumori udibili. Poi ci sono i nostri pensieri. La nostra mente pensa sempre, non si ferma nemmeno di notte. Affermazioni positive. Noi diventiamo ciò che pensiamo, in quanto le nostre azioni sono causate dal nostro modo di pensare. Pensieri, azioni, vita. Spesso però i nostri pensieri sono negativi o limitanti. Con le affermazioni positive, invece, possiamo indirizzare i nostri pensieri dove voliamo noi. Un'affermazione, una parola, una frase, un pensiero che ripetuta diventa una credenza e poi realtà. E così la realtà fisica diventa uno specchio di quella mentale. Piano. Quando sai che cosa vuoi, che cosa desideri, le tue azioni si allineano ai tuoi desideri e tenderanno a raggiungerli quasi automaticamente. Quasi però, perché per altri questo potrebbe non essere sufficiente. Quando ho deciso di voler lavorare online, sapevo che se volevo che questo diventasse realtà, avrei dovuto prendere delle decisioni, essere concentrata sugli obiettivi, fissarmi delle scadenze e creare un piano. Ma come creare un piano se non so nemmeno da dove iniziare? Non deve essere un piano con dei passi precisi da compiere. All'inizio è sufficiente un piano generale per farti capire che è possibile e per farti restare motivato con delle idee, numeri e scadenze generali. Questo piano lo si può creare al mattino e successivamente rileggere durante la routine. 4. Scrivere. Scrivere ti permette di buttare fuori quello che occupa o che inquina la mente. Ma non solo. Aiuta l'autoanalisi e quindi la crescita. Premetto che io non lo faccio ogni mattina, tuttavia è una parte importante. Le cose ce le dimentichiamo, soprattutto quelle pensate prima di addormentarci. Quante idee sprecate. Scrivi per ricordare, per togliere dalla mente, per analizzare, per crescere. Leggere. Se hai già il tuo obiettivo in mente allora leggi libri, articoli, blog riguardanti il tema. Se invece non sai ancora, come me quando avevo iniziato la routine, leggi libri che ti aiuteranno a trovarlo oppure libri di crescita personale. Movimento. Non è di un allenamento completo che ti parlo qui, ma di un qualche tipo di attività che fa muovere l'ossigeno e del sangue nel corpo. Questo può essere anche di 10 minuti. Si possono saltare alcune parti di questa routine, ma non si può saltare il movimento fisico. La vita è un equilibrio tra salute, ricchezza e felicità. Non ci può essere felicità senza salute e tanto meno ricchezza. E d'altronde come potresti concentrarti sul lavoro e sul creare valore per il mondo se non stai bene fisicamente? E alla fine trovate la ricetta del mio porridge, la ricetta dello scrub corpo paradisiaco, delle tabelle da poter utilizzare e le risorse. Ti auguro con tutto il cuore che la lettura di questo ebook sia l'inizio del cambiamento di cui avevi bisogno, che dia inizio alla tua trasformazione verso la migliore versione di te. Considero che il periodo migliore per creare una routine sia primavera estate, in modo che poi quando arriva il freddo, il buio, la routine è ben strutturata ed è diventata abitudine. Per questo motivo ho deciso di mettere l'ebook a metà prezzo per i prossimi tre giorni, in modo da dare la possibilità a più persone di prendere ispirazione e di fare i primi passi per fare dei cambiamenti nella propria vita. Per avere lo sconto basta iscriversi alla newsletter che invio ogni domenica con pensieri, aggiornamenti, informazioni, frasi motivazionali. Ci si può tranquillamente disiscrivere se poi non si è interessati. Chi è già iscritto l'ha già ricevuto, quindi controllate la posta. Questo è un ebook che significa libro in formato digitale, può essere letto su telefono o computer. Ha 54 pagine, quello che ho letto io è solo una piccola parte e lo sconto resterà valido fino a lunedì 17 agosto ore 21. Questo è tutto riguardo l'ebook, ma prima di lasciarvi volevo ringraziarvi per tutto il vostro supporto, amore, calore e auguri sotto l'ultimo video. È stato bellissimo condividerlo con voi, mi avete fatta emozionare una seconda volta. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi dell'avere una routine matutina, bell'ebook se l'hai letto o se lo vorresti leggere, supportami con un mi piace e se sei nuovo iscriviti al canale per video su minimalismo, crescita personale e uno stile di vita sano. Ci vediamo al prossimo video e fino ad allora vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi. Peace!